è nata naturalmente, è stato un processo veramente molto naturale Margaret ha cominciato a scrivere Non ti muovere e io sono stato, come dire, ho avuto il privilegio di essere il primo a leggere quelle pagine quelle pagine uscivano calde, come dire, dalla stampata il primo a raccoglierle e leggere sono stato io che ho avuto anche, come dire, la posizione di essere, in fondo, il primo editor di quelle pagine e mi ricordo che, dandole questo aiuto nel tagliare alcune parti e così via perché la scrittura di Margaret è una scrittura studiale lei pubblica 300 per scriverne 900 di pagine le altre 600, ma quando appunto coltivate, tagliate, cambiate, spostate e così via inconsciamente, credo, all'inizio ho cominciato a vedere questa scrittura, fatta naturalmente di parole, ma parole che si facevano spesso prima di guardare che leggere, una scrittura molto visionaria, molto visiva, quasi odorosa per certi versi e allora ho cominciato a pensare, nella prima fase, senza neanche accorgermi, senza neanche rendermi sotto all'idea del film e poi ho scritto la scrittura da solo Margaret disse, fai quello che vuoi, prendi il libro, strappa le pagine che non ti piaccia, fai come ti parli poi probabilmente lei è entrata invece in una seconda fase e così poi è cominciato il cammino straordinario di mettere i visi, le facce, i corpi al posto dei personaggi di Timoteo, di Italia e così via saprei questa opportunità di raccomoduzione con la Sottania per cui mi fu fatto il nome di... ah no, prima c'era il discorso di Timoteo, cioè di quello che poi ho recitato io inizialmente io non volevo neanche recitare dentro volevo... pensavo a un attore... pensavo che Timoteo fosse un personaggio che avesse qualcosa di... di molto freddo, di molto clinico dentro, come di bloccato e quindi avesse bisogno di un attore... ehm... come dire... più... più misurato, più anglosassone, più... ehm... più misturi, appunto, lui è il chirurgo mi ha in mente dei nomi John Markovic, pensavo a John Markovic è un attore che è sempre considerato immenso e poi... avevo pensato a John Markovic e poi ho finito di scrivere una sceneggiatura ho riletto la sceneggiatura ho visto che... che... che potenza avesse questo personaggio che era riuscito a scrivere ho detto col tavolo che non aveva già mai faccio io applausi e poi è nata vivendo con la luce della Penelo e Penelo che ha attraversato quel film illuminando questo personaggio ehm... umilmente mettendosi a disposizione di questa cosa dell'imbrottimento e così via capendo bene che quella era una chiave davvero, come dire, vincente per quel personaggio è stata un'avventura molto tosta e molto... ehm... gratificante da tutti i punti di vista eh... non c'è dubbio che Penelo Becruzza appunto insieme a... a te è un po' il cuore del... del film ma io sono rimasto nel capitato che ti vedevo anche questa mattina emozionato e colpito dalla prestazione di Claudio Gerini che ha un piccolo luogo ma secondo me la cosa più bella che ha fatto al cinema di Claudio forse è proprio questa cosa Claudio ha fatto una cosa molto bella c'era la moglie Elsa era una straordinaria perché era questa donna questa moglie americana tra virgolette, no? vincente e così via invece qua in realtà una... alla fine si rivela appunto quello che è una madre devastata di fronte a sto dolore sì, anch'io che è che Claudio abbia fatto una delle cose più belle ma ci sono attori che poi sono diventati attori straordinari c'è Marco Giallini c'è Pietro Le Silva ma insomma c'è un tasto vi ricordate la scena di quel ragazzino che sta mangiando le mani del padre che dice non ne posso più che lo lascia? quello è pieno, il mio figlio perché lo mostro? è pieno, è pieno, è pieno perché sai, questo ci tocca a Salette per me è un riferimento perché nel senso più bello più laico però anche più romantico il cinema è bello quando è una famiglia insomma da tutti i punti di vista il cinema stesso è una famiglia tant'è che a volte ci si litiga litiga dentro come una famiglia ci si accortella le spalle come una famiglia come solo una famiglia a volte succede per cui però si allea in alcuni momenti come soltanto dentro l'amore questo aggregato l'amore di relazioni se penso a quel personaggetto che ho fatto della famiglia di Ettore Scol per il proposito di famiglia c'è un segno anche di Margaret che passa nell'ultima sequenza del film è un casuale anche quello era l'ultimo giorno di ripresa di Penelope doveva partire e lei lo sapeva e disse vengo sul setembre a salutare Penelope dovevamo girare questa passafinale Penelope finì fatto il frenziano l'applauso che si fa gli attori veneno per un sacri del film io dovevo girare a sfidare lei se ne stava per andare Margaret dice Margaret ma una cosa passa compasso mettiti come si chiama un preview da medico bianco e passa Margaret è molto vanitosa ha detto no mi vesto bene di nero se le vuole che passa per un giro non lo metto e passò fu una cosa magica perché era come se il personaggio come se lo scrittore incontra i suoi personaggi per strada in croce in croce è il fantasma di Giasca grazie